In questa seconda parte vedremo un'altra serie di quesiti analitici, naturalmente valgono sempre le solide considerazioni generali, qui ci saranno i quesiti non numerici presenti nel secondo fascicolo degli appunti e anche in questo caso nella risoluzione dei diversi quesiti è opportuno leggere attentamente il testo soprattutto per quello che riguarda il contesto del campione, fare molta attenzione alle richieste analitiche, tenere presente l'eventuale interferenza e più in generale la matrice che il campione può presentare e infine considerare la quantità assoluta e relativa di analita che può essere presente nel campione in esame. Nel primo quesito si parla di due componenti organici, il cui comportamento può essere ritenuto ideale, che vengono distillati in continuo in una colonna piatti. Viene richiesto di individuare una tecnica analitica adeguata per analizzare il componente più volatile sia nella portata in ingresso che nelle correnti uscenti, cioè nel distillato e nel residuo. Qui è necessario fare alcune ipotesi. Se si ipotizza che entrambi i componenti siano sufficientemente volatili e soprattutto che quello meno volatile non si degradi termicamente in seguito al riscaldamento, allora si può utilizzare la gas liquid chromatography. Al contrario, se quello meno volatile risultasse non sufficientemente adatto alla volatilizzazione e comunque non fosse compatibile con il riscaldamento necessario per volatilizzare il campione, allora sarebbe più opportuno l'HPLC che, come è noto, non richiede vaporizzazione del campione. Se in un caso se nell'altro, la domanda richiede di descrivere i principi generali e le caratteristiche della tecnica utilizzata. In questo quesito si parla di reflui fognari, di un impianto di depurazione acque, che vengono trattati mediante digestione anaerobica, quindi in assenza di ossigeno. Viene richiesto di indicare le metodologie analitico-strumentali necessarie per controllare la funzionalità del processo e il rispetto dei parametri operativi. Questa domanda si collega naturalmente con tecnologie chimiche in cui è stato studiato il processo di depurazione di reflui fognari in modo anaerobico. Quindi, tenendo conto della particolare biochimica del processo, che avviene naturalmente in assenza di ossigeno, i parametri operativi da controllare saranno la temperatura, qui non deve essere troppo alta per garantire la vita dei microorganismi, si tratta di processi esotermici. Poi sarà opportuno controllare il carico di carbonio in ingresso dei reflui. Un'idea della quantità di carbonio si può avere mediante determinazione della BOD, cioè il biochemico e l'ossigeno in demanda, e del COD. Il pH nel processo di degradazione anaerobica si ha una fase iniziale acidogena in cui si formano acidi grassi volatili, AGV, dalla demolizione delle sostanze organiche. Quindi è opportuno tenere sotto controllo il pH, ad esempio, mediante misure con elettro da vetro. Volendo è anche possibile monitorare gli AGV singoli, estraendo un campione dal digestore, analizzandoli mediante gas liquid cromatography. Si può anche poi determinare il contenuto di ammoniaca sia libera e sia come ion ammonio, perché dall'idrolisi delle proteine presenti nei reflui si formano grandi quantità di azoto. Allora, in questo caso, si può determinare sia l'ammonia calibra sia l'ion ammonio mediante elettrodi specifici a membrana, i cosiddetti ISE. Nel quesito numero 4, invece, si parla di estrarre un olio di semi di soia mediante solvente selettivo. Dopo la parte iniziale che riguarda la progettazione dell'impianto, viene invece richiesto, per quanto riguarda chimica analitica, di individuare le metodologie analitico-strumentali, per il controllo del processo e il rispetto dei parametri operativi. Qui è opportuno ricordare che l'estrazione dell'olio dei semi oleosi con solvente selettivo si fa quando il contenuto di olio è inferiore a circa il 20%, mentre negli altri casi si ottiene l'olio mediante pressatura caldo, quindi non con estrazione. Questa è la strada che si segue se l'olio è una destinazione alimentare, perché evidentemente tracce di solvente residui non permettono di utilizzare l'olio in campo alimentare. In genere si utilizzano solventi a base di idrocarburi, miscivili in acqua, uno dei più usati è il normale sano. Alla fine il solvente viene allontanato mediante distillazione. Quindi come si può controllare questo processo? Innanzitutto si deve controllare la temperatura nelle diverse fasi per evitare l'ossidazione degli acidi grassi insaturi presenti, che sono in genere abbondanti. Poi si può ricorrere, se il campione non volatile, all'HPLC, per l'asile prodotto finito, per caratterizzare gli acidi grassi presenti. Sempre con l'HPLC si potrebbe determinare, naturalmente con altre condizioni operative, le eventuali tracce residui di solvente di estrazione. Infine si possono determinare i classici parametri degli oli, quale ad esempio l'insaturazione con il numero di odio, il numero di acidità, di saponificazione, eventualmente registrare uno spettro OV, questo per controllare che la qualità dell'olio estratto sia conforme ai requisiti richiesti per legge. Nel quesito numero 5 si parla invece di una produzione biotecnologica, il bioetanolo, che viene spesso utilizzato come combustibile con un minore impatto ecologico perché ottenuto da fonti rinnovabili. Il bioetanolo si può ottenere dalla fermentazione di prodotti o amidaci o zuccherini, come ad esempio le barbabietole. Viene richiesto di individuare tecniche analitiche adatte per valutare la composizione delle materie prime e del prodotto finito. Per quanto riguarda l'analisi di substrati zuccherini, come ad esempio le barbabietole, lo scopo è determinare la quantità di saccarosio iniziale. Essendo saccarosio uno zucchero ci si riferisce all'analisi tipica degli zuccheri, come la riflattometria, la polarimetria, tenendo conto che la maggior parte degli zuccheri sono otticamente attivi, oppure l'HPLC, quindi richiesta una breve descrizione di queste tecniche. Per quello che riguarda invece il contenuto di etanolo nel prodotto finale, si potranno utilizzare le stesse tecniche previste per il grado alcolico nei vini, visto che si tratta sempre di etanolo sciolto in acqua. Quindi si può ricorrere all'ebulometria con l'apparecchio di Mulligan, oppure con il metodo basato sulla distillazione e successiva valutazione del grado alcolico del distillato attraverso per esempio rifattometria o misure del peso specifico. L'uso di tabelle di correlazione permette poi di risalire alla quantità di alcol presente, di etanolo. Questo è un quesito di tipo generale in cui vengono richiesti i principi generali dell'HPLC, gli schemi e l'applicazione analitica dei diversi campi. Si potrà rispondere alla domanda quindi trattando i principi generali tipici della cromatografia, quindi la competizione tra fasi fisse e mobili, i meccanismi di separazione, uno schema dell'apparecchio, magari la trattazione sia pure rapida di colonne rivelatori e infine qualche applicazione analitica di esempio scelta tra le numerosissime a disposizione. In questo quesito altrettanto generale si parla invece della legge di Lambert Beer che come nota è alla base delle tecniche spetroscopiche. Occorre scrivere la suddetta legge, le grandezze presenti e poi riassumere in modo sintetico le principali tecniche ottiche in assorbimento e accennare a qualche applicazione. Quindi dopo lo scritto regge di Lambert Beer è precisato il significato di vari termini presenti, in particolare si può fare riferimento anche al significato di a minuscolo cioè il coefficiente di assorbimento della sua dipendenza dalla lunghezza d'onda ed è proprio questa dipendenza che costringe a fare le analisi spetrofotometriche con luce rigorosamente monocromatica. Una volta fatto questo si possono riassumere le principali tecniche di assorbimento dividendoli in molecolari UV visibili IR e atomiche appunto la AS perché per tutte queste tecniche la legge di Lambert Beer è valida. Si possono infine riassumere i campi di applicazione di queste tecniche. Come è noto la spetrofotometria UV visibile va bene per analizzare tutta una serie di ioni e molecole dotate di cromofori o per i quali è possibile sviluppare un cromoforo. Al contrario la spetrofotometria infrarossa serve a caratterizzare i gruppi funzionali molecolari delle molecole organiche e quindi fare un'analisi qualitativa. Esattamente la stessa cosa cioè la spetrofotometria a livello di assorbimento atomico servirà invece come analisi quantitativa di elementi metallici in tracce. Per quanto riguarda invece il quesito numero 8 una domanda molto generale in cui si sceglie si chiede di scegliere un generale processo di produzione biotecnologica indicando le caratteristiche delle materie prime, processo, prodotto finito e principali controlli analitici. Naturalmente la risposta sarà finalizzata alle conoscenze nel senso che se è nota la produzione biotanoro si tratterà quello oppure un antibiotico oppure qualsiasi altro processo che è stato fatto in tecnologie chimiche e anche in chimica organica. Naturalmente i controlli analitici richiesti e le caratteristiche delle materie prime saranno strettamente correlate al processo scelto. Naturalmente occorrerà fare mente locale sulle condizioni in cui si verifica questo processo e quindi ipotizzare gli opportuni controlli analitici per i parametri caratteristici come nel quesito precedente dove si parlava di produzione del biotanolo. Il quesito 14 parla in generale dell'emissione atomica che si può chiamare sia OS sia AS viene chiesto di parlare dei principi generali di questa tecnica e delle relative applicazioni sia per singoli elementi sia per l'analisi multi elemento. E' chiaro che occorrerà descrivere principi generali come ad esempio l'emissione atomica, vale a dire le transizioni elettroniche che avvengono tra livelli energetici atomici questa volta. Poi si farà riferimento alla tecnica più importante cioè l'emissione al plasma, ICP, si potrà parlare delle modalità operative di questa tecnica e delle sue applicazioni per l'analisi quali e quantitativa sia in caso di singoli elementi sia in caso di multi elemento. Ricordiamo infatti che l'ICP è una tecnica adatta per l'analisi di elementi quindi la cosiddetta analisi elementare ma anche tanti elementi insieme a seconda della tecnica usata si può arrivare fino a 60 addirittura 80 elementi insieme quindi praticamente tutto il sistema periodico a parti gas nobili. Nel quesito 19 si fa riferimento alle materie plastiche e una volta che si parla di materie plastiche di polimeri viene chiesto di illustrare le diverse relazioni di polimerizzazione e poi di individuare e discutere una tecnica analitica per la caratterizzazione di polimeri con la precisazione un particolare riguardo all'analisi di film polimerici. Quindi la risposta dovrà contenere le diverse relazioni di produzione di un polimero dei monomeri quindi la polimerizzazione vera e propria, la policondensazione e la poliaddizione. Sarà opportuno indicare le differenze tra i vari monomeri richiesti caso per caso e i meccanismi di reazione scrivendo una reazione generica di polimerizzazione per ciascun meccanismo e eventualmente un esempio per maggior chiarezza. Per quanto riguarda poi la caratterizzazione dei film polimerici è evidente che la tecnica più adatta sarà l'infrarosso in particolare la tecnica FT-ATR cioè con la riflessione attenuata che viene chiesto di riassumerla e magari può essere utile un confronto con l'R tradizionale o l'FTR relativamente alla necessità in queste ultime due tecniche di preparare un campione tecnica che invece non richiede una particolare preparazione, l'FT-ATR. Nel quesito 20 si parla in generale di produzione di energia mediante combustione di fossili, come noto a tutti questo produce nell'atmosfera un accumulo di gas inquinanti, gli ossidi di carbonio, zolfo e azoto che sono tutti gas acidi, quindi provocano le cosiddette piogge acide. La CO2 poi ha anche l'effetto di gas serra e quindi direttamente collegata al riscaldamento globale cioè al global warming. Viene chiesto di ipotizzare una tecnica analitica per monitorare in continuo tali gas permanenti, ad esempio nell'area di una città. E poi, secondo aspetto di questa domanda, viene chiesto di descrivere le tecniche di campionamento per i gas. Per quanto riguarda l'ASI gas permanenti è evidentissimo che la tecnica più detta è la gas liquid chromatography, visto il campione che è già gassoso. Si procede con gas chromatography automatici, quindi presenti nelle diverse centraline di rilevazione dell'inquinamento cittadino. Queste centraline sono gestite mediante dei PC che controllano le condizioni operative che a tempi definiti inviano in remoto i risultati agli enti preposti, come ad esempio l'ARPA. In questo modo si può controllare l'inquinamento dell'area delle città e quindi mandare dei segnali di allarma ai sindaci nel caso di superamento di soglia di alcuni di questi inquinanti e quindi eventualmente blocco del traffico e misure che si rendessero necessarie. Per quanto riguarda invece il campionamento di gas è la tecnica più facile perché i gas sono sempre omogenei, si può ricorrere contenitori tipo canister, all'uso delle fiale dragger per avere già una prima idea sulla quantità e tipologia di inquinanti e così via. Tutti argomenti che si trovano nel capitolo del processo analitico. Nel quesito 21 si vuole ottenere saccarose dalle barbabietole da zucchero come esempio di estrazione in solido liquido, quindi ancora una volta si richiede una tecnica per determinare qualitativamente e quantitativamente gli zuccheri presenti nelle barbabietole. Ora, detto già più volte che l'analisi dei campioni zuccherini può essere fatta mediante rifrattometria, polarimetria, HPLC. Dato che in questo caso viene chiesto di determinare non solo il saccarose ma anche gli zuccheri presenti, per determinarli in modo qualitativo e quantitativo contemporaneamente è evidente che la tecnica più indicata è la cromatografia liquida, cioè l'HPLC. Nel quesito 33 si parla invece di analisi di un campione di acqua potabile e sospetta la presenza di cromo esavalente, come è noto un inquinante molto pericoloso perché ha azione cancerogena, sia pure in tracce. Viene chiesto di individuare una tecnica analitica, descrivendole poi i principi generali, tenendo presente che il limite di legge ammesso per il cromo esavalente è bassissimo, parliamo di 10 microgrammi litro, quindi siamo in presenza di un campione in cui le tracce di cromo sono praticamente ultra tracce. Tenendo conto di questo, tenendo conto del cromo un metallo pesante, visto il bassissimo tenore di analita presente nel campione, è chiaro che la tecnica più adatta è l'assorbimento atomico, in particolare quella con fornetto di grafite, cioè la GFAS. Ricordo che questa tecnica è più sensibile rispetto all'assorbimento atomico con l'atomizzatore a fiamma laminare, quindi sarebbe in grado di scendere a livelli di concentrazione molto più bassi dell'ordine di quelli richiesti. In subordine si può anche pensare all'emissione atomica, magari mediante emissione al plasma e ICP. Tuttavia occorre ricordare che questa tecnica è soprattutto una tecnica multielemento, cioè permette di determinare più elementi contemporaneamente. Qui era richiesto solo il dosaggio del cromo. Inoltre è decisamente più costoso per quanto riguarda le apparecchiature richieste. Nel quesito 34 si parla di una raffiniera di petrolio e quindi c'è una classica domanda, correlata anche con tecnologie chimiche, perché si parla di topping e analisi di prodotti leggeri ottenuti dal topping. Per prodotti leggeri si intendono chiaramente benzine, carosene, già il gasolio non è più leggero quindi stanno scendendo nella colonna, i punti di pollizione sono già elevate. Quindi frazione leggera chiaramente si parlerà di benzine. viene chiesto di scegliere la tecnica più adatta, illustrando i principi generali di questa tecnica e il loro campo di applicazione. Come abbiamo già avuto modo di vedere anche altre volte, per l'analisi di queste frazioni leggere, tenendo conto della loro indubbio volatilità, tenendo anche conto della loro complessità, la tecnica più indicata è senz'altro la gas cromatografia, cioè la GLC, per le quali sarà necessario indicare i principi generali, quindi i soliti principi generali sulla competizione tra le fasi, meccanismi di separazione eccetera 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 e poi il relativo campo di applicazione. Grazie. 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 Grazie.